Domenica affrontiamo in casa Vibo Valencia, una squadra sicuramente buona che sta disputando un buon campionato nonostante abbia avuto nell'ultimo periodo un momento di difficoltà ma quel che posso dire io è che più che dire qualcosa su loro, sulla loro squadra dobbiamo pensare ancora una volta a noi stessi, a cercare di fare il meglio possibile ancora una volta in una situazione di difficoltà perché non abbiamo recuperato ancora nessuna delle due centrali che erano fuori a Macerata e appunto ripadisco il fatto che dobbiamo pensare a noi stessi cercare di fare il meglio possibile, è la penultima di campionato davanti al nostro pubblico e io mi auguro anche da qui alla fine di stagione di ottenere una vittoria che è sicuramente molto difficile perché incontriamo tre squadre molto blasonate del campionato però io me lo auguro quindi comunque sia noi scendiamo in campo nel modo migliore per cercare di fare bene possibile e magari sperare una vittoria grazie! grazie!